Oppure qualche tempo fa stavo sulla pagina Wikipedia della guerra in Afghanistan perché io sono un comico, le mie giornate sono vuote e ho visto una cosa che mi ha strabiliato vero, andateci a vedere se non mi credete, ma ci sta la lista di tutti i paesi coinvolti quindi c'è Stati Uniti d'America, 30.000 soldati mandati in guerra poi ci sta Inghilterra, 7.000 e così via in fondo a sta lista ci sta Australia 3 l'Australia pensava fosse in Erasmus, ho detto dai facciamo un bando sono arrivati tre australiani in Afghanistan quando inizia la Welcome Week? no poi c'è stata la guerra, spero che ci avrete le armi oh sì, Sergio c'ha il boomerang e stiamo in una botte di ferro che mondo raga, un mondo pazzo ho stato in Africa qualche tempo fa il camiseo è pieno di immigrati oh sì, io sono